Abbiamo ritenuto doveroso invitare il Centro Universitario Teatrale, Giorgio Mennoia e tutta la sua compagnia. Porto i saluti del nostro sindaco che questa sera non è potuto essere con noi per ragioni istituzionali già precedentemente che l'hanno portato lontano da qui, però vi porto i suoi saluti e da parte sua, da parte dell'intera amministrazione comunale, da parte del direttore artistico mi preme ringraziare il padrone di casa, Monsignor Giandomenico Valente, che ancora una volta ha accolto il nostro invito a realizzare spettacoli teatrali su questo splendido sagrato. In effetti questo è un bando che vuole e punta all'obiettivo di valorizzare i luoghi della cultura. Roccasecca ha svariati e numerosi luoghi della cultura, uno di questi è questo splendido sagrato dinanzi alla chiesa appena rinnovata, che si presta benissimo soprattutto ad accogliere manifestazioni teatrali. Addirittura in questa fase, in questo progetto è la seconda che ospitiamo qui. Quindi ci auguriamo che questo cammino possa proseguire e vi auguro buon spettacolo. Grazie. 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 Grazie.